Partiamo dal presupposto che c'è qui il più bel campo di gara del mondo, è questa occasione, questo evento, tutte le città lavorano per averlo, quindi per noi è stata importante la credibilità anche del gruppo degli organizzatori americani che hanno detto che Napoli ha organizzato già bene la campagna, la regione campagna, tutte le istituzioni e gli organizzatori, bene la prima edizione, quindi questo è un primo fatto positivo. Poi porta economia sul territorio, nel senso che spendi meno e prendi di più di quello che vi è attraverso il turismo, attraverso le attività che vengono svolte a Coppa America, oggi abbiamo dato i primi dati della parte delle prenotazioni e siamo a livello altissimo, ma hai visto chiaramente dopo Pasqua, quindi questo significa più occasioni, anche se posti di lavoro che non sono certi duraturi, però c'è un'occasione di lavoro, di produzione di pille, quindi di ricchezza che viene portata sul territorio. Poi c'è la vela, c'è il mare, ci sono i ragazzi che si avvicinano a questo sport straordinario, quindi c'è tutto l'aspetto sportivo, sociale e di prospettiva che uno sport dà come grande evento, abbiamo visto tanti ragazzini che per la prima volta vedono la vela, poi chiaramente questo riguarda tutta la costa, quindi riguarda una costa così straordinaria come la nostra, che è di 30 chilometri tutti utilizzabili per la vela, quindi questi sono gli eventi positivi, quindi è un evento che va gestito, non dobbiamo chiaramente amplificarlo più di tanto, nel senso che non può essere un evento salvifico per risolvere gli altri problemi che pure ci sono, che sono tanti problemi che viviamo ogni giorno, però dobbiamo sempre farne un bilancio positivo, verificare il bilancio positivo, lo sforzo e la scelta deve poi produrre effetti con un segno più, ed è quello che noi vogliamo, già nella prima edizione, il segno più c'è stato, speriamo chiaramente di poter portare un bilancio ancora più favorevole alla chiusura dell'evento. Grazie